Tanti auguri, auguri Gino, guardate come è docile e soprattutto quante coccole che vuole. Allora lui veramente è un compagno, in questo caso un compagno per te, un compagno di vita e soprattutto un compagno perché ci aiuta in tantissime situazioni. Nel mio caso specifico devo dirti che loro veramente sono una salvezza per quando andiamo in montagna, quando ci ritrovano sotto le valanghe con il soccorso. Allora ecco qua Gino, però veramente sono tantissimi i lavori che effettua. Da quanto tempo è con te? Da cinque anni. Cinque anni? Sì. È il tuo compagno, vero? Compagno di vita, compagno di lavoro, mi aiuta tantissimo. Che bello. Adesso torno, auguri, auguri per i 172 anni. Allora veramente è un riferimento per la sicurezza di tutti quanti noi, da sempre a disposizione per tutte le esigenze della nostra comunità. Sono le donne e gli uomini della polizia di Stato. Allora ne parliamo con Francesca Picerno, vicequestore aggiunto della polizia di Stato. Buongiorno. Buongiorno. Allora intanto tanti auguri. Grazie. Come affrontate la quotidianità? Allora la polizia ogni giorno garantisce la sicurezza dei cittadini. Noi garantiamo che le persone possano esercitare i propri diritti e le proprie libertà fondamentali. Ma la nostra sfida più grande ogni giorno è quella di far sì che sia sempre altissima la fiducia dei cittadini nei nostri confronti e che i cittadini percepiscano che noi siamo sempre al loro fianco in ogni circostanza, in ogni momento della giornata. Noi ci siamo per tutti quanti i problemi che possono avere nella loro vita, per vari aspetti che possono essere legati alla sicurezza, all'ordine pubblico o alla tutela della propria incolumità. Infatti dobbiamo dire che voi proprio su questo lavorate tantissimo sui più giovani, sulle persone anche diciamo di una certa età, i più indifesi anche. È un messaggio anche che volete dare il fatto che comunque, soprattutto nei ragazzi, quando si vede, io dico sempre l'uniforme, non le divise, l'uniforme, non bisogna aver paura, anzi bisogna essere anche contenti. Assolutamente. Noi abbiamo tantissime campagne di sensibilizzazione rivolte soprattutto ai giovani, per quanto riguarda tematiche importanti come ad esempio il bullismo, il cyberbullismo. Noi vogliamo che la divisa diventi un punto di riferimento per i giovani, quindi abbiamo iniziative in tantissime scuole, in tantissimi teatri e abbiamo anche campagne legate ad esempio agli anziani, per evitare che le persone anziane incorrano in truffe e così organizziamo incontri su tutto il territorio. La ringraziamo anche perché abbiamo affrontato tantissime volte l'argomento proprio qui. Allora adesso andiamo a vedere perché abbiamo alcune specialità proprio e iniziamo da Luigi Pennino, Artificere Polizia di Stato. Come si diventa Artificeri? Ma buongiorno a tutti intanto. Auguri. Grazie, grazie mille. Io credo che per fare determinate attività ci voglia una passione nata perché è un lavoro molto particolare e questo lavoro si fa attraverso un percorso, è un addestramento diciamo lungo e duro ed è un addestramento continuo perché la minaccia in tal senso negli anni muta e quindi noi ci dobbiamo adattare, ad adeguare anche con il materiale che per fortuna la Polizia di Stato ci riesce a fornire sempre più all'avanguardia. Quindi ricerca e studi. Sì, ricerca e studi costante proprio perché la minaccia purtroppo nel tempo si evolve. Allora però dovete sapere che qual è una delle mie passioni in più? È la montagna. E quando sei in montagna per vederla dall'alto, per vedere anche per fare i documentari, come la vedi? Con il drone o l'igorsilo? Dove voglio arrivare? Da Martina a Montalin. Eccola qua. Pilota, buongiorno, auguri. Come si diventa Piloti? Piloti c'è da fare una selezione per la Polizia, poi l'addestramento, il corso basico avviene presso l'Aeronautica Militare, presso il 60esimo stormo di Latina e segue poi a pratica di mare di nuovo nel reparto della Polizia per avere l'abilitazione sulle macchine della Polizia di Stato. Diciamo che voi poi siete capaci ovviamente di guidare qualsiasi tipo di macchine, però in realtà la differenza di andare a volare in città, in mare, in montagna è molto differente. È molto differente, sì, infatti abbiamo sia elicotteri che aeree in polizia e la specializzazione va anche in base all'attività che va fatta successivamente, se è pattugliamento stradale, in mare, ricerca soccorso, quello che viene richiesto dalla situazione. Allora io lo devo descrivere perché non mi ricordo tutti, perché un altro fiore all'occhiello ovviamente della Polizia di Stato sono le attività sportive. E allora, oro nel 100 stili liberi di nuoto alle Olimpiadi di Tokyo, argento nello stile libero 4%, bronzo nella staffetta mista 4%, poi mondiali 2022-2023, giovanissimo, sede il 2001 Antonio Fantin. Complimenti! L'altro giorno con te c'era il tuo collega René. Cioè ma quante medaglie avete portato? Beh innanzitutto buongiorno a tutti e auguri a tutta la famiglia della Polizia. Diciamo che quest'anno è l'anno dei sogni per l'Olimpiade e per la Paralimpiade, non potremmo sognare, non avremmo potuto neppure conoscere i nostri sport, le nostre passioni, se non fosse grazie al lavoro di tutti loro e non solo, che quotidianamente ci danno la serenità di vivere al meglio le nostre passioni e poi di provare anche a raggiungere i nostri traguardi, i nostri obiettivi, a vincere, ad accumulare e di incrementare il medagliere per l'Italia. È una fortuna, è un privilegio sia poterlo fare per l'Italia sia soprattutto indossare anche i colori della Polizia quando ci cimentiamo in quello che ci piace e quello che desideriamo fare. Stavamo vedendo anche le immagini dietro mentre stavi parlando e dobbiamo dire tra l'altro anche che la Polizia di Stato è stata anche la prima anche come gruppo sportivo ad assumerli a tempo indeterminato, medagliere importante, pensiamo anche alla bandiera. Assolutamente, infatti quest'anno la medaglia d'oro al valore civile alla bandiera della Polizia di Stato viene data ai gruppi sportivi delle Fiamme Oro proprio a rappresentare l'importanza che hanno nel nostro paese perché attraverso un'attività sportiva in cui loro dimostrano il loro sacrificio, la loro abnegazione, la loro professionalità attraverso lo sport veicolano un messaggio di legalità, il messaggio del rispetto delle regole e tutti i valori fondamentali legati allo sport. Allora, siamo in chiusura, però le chiedo, oggi si festeggia Polizia di Stato in tutta Italia venerdì, sabato e domenica, vi aspettiamo dove a Piazza del Popolo? Venerdì, sabato e domenica ci sarà un villaggio in Piazza del Popolo dove ci saranno degli stand informativi della Polizia di Stato per rispondere alle domande dei cittadini su vari argomenti e in più verranno organizzati vari incontri sia con i ragazzi sia con gli anziani e ci saranno dei concerti dedicati alla cittadinanza della banda della Polizia di Stato e della fanfara. Grazie a Roma, tutto questo, a Roma, a Piazza del Popolo. Grazie al Popolo. E allora, ringraziamo tutti quanti i nostri ospiti. Ciao Gino, grazie per essere stato con noi. Grazie Martina, grazie Giuseppe, grazie Antonio, grazie a Francesca Picerno e ricordiamo anche, tra l'altro, avete la possibilità di poter donare grazie a donatori nati dall'Associazione della Polizia di Stato. E allora, tantissimi auguri, noi ci fermiamo qui.